Google Ads è il servizio pubblicitario di Google che consente alle aziende di visualizzare annunci basati sulle parole chiave inserite dagli utenti. Con Ranking Coach puoi gestire gli annunci direttamente dalla tua dashboard in modo semplice. Potrai creare e modificare gli annunci, gestire il budget giornaliero, la posizione e utilizzare le funzioni di estensione degli annunci per creare una campagna più mirata. Vediamo come. Una volta avvenuto l'accesso alla dashboard, vai alla sezione Google Ads. Poi clicca su Crea una campagna. Scegli gli annunci che vuoi eseguire. Ranking Coach ti fornerà fino a 5 selezioni di annunci tra cui scegliere. Fai clicca sulla casella di controllo accanto agli annunci che sono stati creati per la tua azienda. Ti consiglio di scegliere un minimo di 3 annunci per avviare la prima campagna. Come modificare o aggiungere i titoli degli annunci. I titoli sono la parte più evidente del tuo annuncio e il punto in cui le parole chiave catturano l'attenzione di un potenziale cliente che fa clic su di esse. In qualsiasi momento è possibile modificare o aggiornare i titoli suggeriti. Basta digitare nella casella specifica e modificare i titoli se necessario. Nell'anteprima vedrai come appariranno i titoli nei risultati di ricerca di Google. Per aggiungere un nuovo titolo è sufficiente fare clicca sul pulsante Aggiungi titolo e per rimuoverlo fare clicca sul cestino accanto al titolo. Come modificare la descrizione degli annunci. Le descrizioni degli annunci forniscono informazioni aggiuntive su ciò che l'annuncio promuove. In base alla selezione degli annunci vengono generate tre descrizioni che possono essere modificate se necessario. Poi procedi cliccando su Completa. Una volta che hai inserito e verificato che tutti i dati siano corretti, puoi continuare cliccando su Verifica campagna. Inserisci il tuo numero di telefono per abilitare la campagna pubblicitaria. Riceverai un codice di verifica via SMS. Digita e conferma il codice ricevuto. Continua. Imposta il budget giornaliero. Dopo aver modificato il titolo e la descrizione del tuo annuncio, il passo successivo consiste nell'impostare un budget mensile. Da questa schermata è possibile acquistare pacchetti di budget da utilizzare per le proprie campagne. Il budget viene allocato mensilmente. Ad esempio, acquistando un pacchetto da 30 euro, il sistema tenterà automaticamente di utilizzarlo al 100% entro il mese corrente. In caso di recesso dal servizio, eventuali crediti residui relativi a budget non utilizzati non saranno rimborsati. Ed infine, controlla i tuoi annunci. Una volta completata l'impostazione della campagna, avrai a disposizione un'ultima sezione per rivedere la tua campagna prima che diventi operativa. Puoi controllare ancora una volta gli annunci selezionati, i titoli, le descrizioni, il budget giornaliero di ricarica e le parole chiave selezionate. Assicurati anche di regolare la regione di destinazione se necessario. Una volta avviata, potrai visualizzare i report delle tue campagne nel tuo account. Tutte le informazioni sui risultati degli annunci sono raggiungibili nella sezione Google Ads.